Tra difficoltà a trovare un impiego e l'impossibilità per gli enti locali di offrire forme di sostegno al reddito, i giovani sono la categoria più colpita dagli effetti della grave crisi economica. Per favorire la loro integrazione sociale e occupazionale, il Comune di Napoli ha promosso il progetto Carta Giovani, un'indagine conoscitiva rivolta ad aziende e associazioni per offrire servizi agevolati ai ragazzi dai 16 ai 35 anni. Andremo a realizzare una piattaforma web che lavorerà facendo incontrare domande di offerta di consumo giovanile con offerte. Questo è un bando che mette a finanziamento 40.000 euro per questa sfida e quindi siamo in prima linea per dare servizi nuovi e anche più quotidiane a tutti i ragazzi di questa città. Attraverso lo sviluppo di una piattaforma informatica e di un piano di comunicazione, lo scopo dell'iniziativa è incentivare prestazioni culturali, ricreative e commerciali a tariffe ridotte. La cosa innovativa e la sfida, e oggi questo è il momento che abbiamo deciso di lanciare, è appunto quella di chiedere a una giovane società napoletana di realizzare tutto questo, di realizzare dunque la piattaforma, di realizzare poi le app che daranno informazioni a tutti i ragazzi della città degli sconti che ci sono a disposizione. Per aderire alle offerte che saranno pubblicate online non è necessario stampare o distribuire alcuna card, ma basterà esibire la propria carta d'identità. Un esempio concreto di sconto ad esempio avverrà con le giovani professioni e con le categorie professionali e quindi immaginiamo il ragazzo che ha meno di 35 anni potrà fare una visita, ad esempio posso immaginare medica, ad un prezzo vantaggiato rispetto a chi è più grande, in virtù quindi di un vero e proprio patto di generazione e quindi la voglia di voler essere sensibili e la voglia di voler far rendere Napoli una capitale di accoglienza della gioventù.